Se sei nuovo mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanellina per avere tutte quante le notifiche per i video Bene ragazzi, sicuramente bentornati in questo nuovo video della Pixamon Gente finalmente siamo tornati sulla serie dei Pokémon, mi è ritornata anche più o meno un pochino la voce Fermi, mi era finita la caramella della gola in una vescica che era nella gengiva Lasciamo stare Benvenuti in questo nuovo video della Pixamon Gente non provo questa serie da tanto tempo ma sapete la mia voce come sta un attimino messa in un po' in modo degradante Quindi a sto punto aspettiamo un attimino per riportare la Pixamon Ovviamente lasciate un bel like e un bel commento perché oggi gente, devo andare a parlare con ombra dopo l'ultima disfatta Per quanto riguarda lo scontro che abbiamo fatto con Cleo qua sotto E come vedete abbiamo anche tutti quanti Pokémon praticamente devastati, tutti quanti invented, cioè praticamente morti Tecnicamente io pensavo di avere degli ottimi Pokémon ad un ottimo livello Però così non sembra Ci manca secondo me proprio il Garchomp Però mi avete scritto anche in tantissimi raga Che avere tutti quanti Pokémon tipo Drago diciamo che non è un ottimo mosso Prutto quando... No, Zekrom! Gli ha tirato fuori l'unico Pokémon che non volava Ma perché si buggano tutti? Zekrom? Ok, grazie Buongiornissimo caffè Volevo parlarvi del fatto appunto che dopo l'ultimo scontro che ho avuto con quel bomber là in fondo Che stava là di Chloe Diciamo che le cose non è che sono andate proprio tanto tanto bene Quindi dobbiamo dirlo ad ombra e soprattutto secondo me dovremmo andare a prenderci il Garchomp Che abbiamo all'interno del nostro box E un attimino valutare anche i Pokémon vecchi che avevamo con quelli nuovi Secondo me l'Hydragon è da tenere come il Dragonite Anche il Groudon perché comunque non è un tipo Drago Quindi a sto punto facciamo così Il Terranitar ce lo togliamo Ce lo teniamo, ci togliamo il Salamence e lo Zekrom assolutamente Quindi mettiamoceli via E lo Xerneas io sinceramente non vorrei mettermelo in squadra Perché è un Pokémon che non ha attacchi tanto forti A sto punto io mi riprenderei il Gardevoir che abbiamo l'evoluzione mega E in più il Garchomp qua ma non ha attacchi decenti, non ha attacchi belli Vorrei andare un attimino a catturare di Pokémon nuovi La mia voce sta già morendo Ombra, ombra È successo quello che non volevo che succedesse Ho perso lo scontro contro Chloe E non posso farci molto Mi spiace I miei Pokémon non sono ancora pronti per queste battaglie Ma immaginavo Marco Purtroppo devo dirtelo Devi andartene Devi andartene da quest'isola Devi andare a allenare il tuo Pokémon altrove Ma dove credi che possa andare? Qua è l'unico posto dove posso stare Dove sono ben accetto Non è vero Marco Ricordati Siamo su un arcipelago L'arcipelago Nara Ci sono tante altre isole dove puoi andare Ci sono ancora un sacco di Pokémon da scoprire E da catturare E poi continuare a andare i tuoi Pokémon migliori Ora vai Non farti vedere fino a quando non sarei veramente pronto Per far tornare indietro Paineco Ah Dobbiamo andarcene da quest'isola Alla ricerca di tutte quante le altre isole Che possiamo trovare a Nara Wow Non me l'aspettavo essenzialmente ragazzi Perché Ok che abbiamo perso uno scontro così devastante Noi dei Pokémon fortissimi Però Non mi aspettavo tutto ciò Quindi dobbiamo abbandonare l'isola del Paineco Almeno per un po' di tempo Alla ricerca di Pokémon nuovi Perché qua alla fine Sponono sempre i stessi Pokémon Alla ricerca di Pokémon nuovi Per sconfiggere Tutto quanto Quello che c'è qua attorno Ok A sto punto abbiamo un Dragonite Che si è poi suonato Mentre parlavamo con Ombra A random E Facciamo così Andiamo a Far tornare un attimo In un pelo più in vita E poi Scappiamo assolutamente da quest'isola Perché Sembra che non siamo nemmeno ben accetti da Ombra E E la cosa non va affatto bene E io direi che col buon Dragonite Potremmo anche Spiccare il volo E andarcene È una cosa un po' brutta Che non mi aspettavo Voliamo? Quando abbiamo voglia ragazzi Eh tranquilli Purtroppo rega Come vedete anche dalla voce Sto proprio malissimo Non vola Non vola Ti prego Ti prego Dai vola Grazie Ok credo che sia un problema di Dragonite Che non volasse No è proprio un problema della mia connessione Che io non posso volare Ebbene sì Stiamo proprio Lasciando l'isola così In mano al suo destino Su un'altaria E non mi carica nemmeno il mondo Però Andiamo verso Nara A sto punto Ok questa cosa dovrebbe essere l'isola centrale Non ho poi idea di dove andare Perché già nell'isola di Marci Siamo andati E l'isola di Marci Ci ricordiamo che è quella di là Tearless ci ha detto Che la sua isola Stava a fianco Alla nostra Però mi ha anche detto Che stanno succedendo cose bruttissime E che è meglio Non raggiungere assolutamente E Lo ascolto più che volentieri E la cosa mi mette anche un pochino ansia Perché vuol dire Che non siamo in solito Ad avere problemi All'interno di Questo arcipelago Praticamente Di tutto quanto il continente Nara Dove vado? Ok Atterriamo su questo albero un attimino Perché non sopporto come vola l'altaria Perché ostruisce proprio la visuale E non vedo proprio nulla Invece il Dragonite è bello pulito E già di qua vedo Un'isola desertica credo Però non mi piace tanto Il bioma del deserto di per sé Voglio più o meno Un attimino volare anche Verso questa direzione E credo che già stiamo lasciando L'isola centrale di Nara Ok un Hydreigon Vediamo di che livello si trova Ecco quell'Hydreigon lì Che già Ne abbiamo trovato uno molto forte Questo è un 68 Non mi interessa assolutamente Però Tecnicamente In queste zone qua Potremmo anche trovare Magari tipo un Mega Garchomp Rob del genere Che ci potrebbe dare La Mega Pietra del Garchomp E ci potrebbe salvare Molti scontri Però non credo E là già lì Vedo un ponte Qua c'è una Ultra Ball Che però lascio lì Perché non è una Master Ball Dovremmo andare anche in giro A cercare delle Master Ball Rega in effetti Però con tutti quanti Boss leggendari Che troviamo ogni volta Sinceramente vorrei Provare a luttarle in questo modo Però vediamo Dove possiamo andare Perché Secondo me di qua È un'ottima scelta Di qua cosa c'è? Una Taiga Non mi interessa tanto Ci accingiamo ragazzi In questo bioma Della Savana Che è molto carino E coccoloso Dove potremmo trovare Dei Pokémon Che a noi ci piacciono Perché a me Il bioma della Savana Piace davvero un sacco E già qua trovo Degli Ekans E lì vedo Un ponticello Con il ponticello Che ci porterebbe a Nara Lì vedo Un Oxiter Qua c'è un piccolo Ekans Che però Ekans ti voglio bene Però siamo a livello 14 Cerchiamo un attimo Di esplodere questo Per vedere anche Che Pokémon ci dà Ok ciao Ekans Grazie mille Take all Comunque vediamo Un attimino davvero Che Pokémon possiamo trovare La Savana ragazzi È un bioma Che mi mancava Che non ho ancora trovato In questa Pixamon Ok abbiamo Grazie per la Rottenflash Ekans Davvero E non so nemmeno Se ci sia qualcuno Già qua che ci abita Non ho proprio idea Però già li vedo 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 Un piccolo Oddio Fermi tutti Come si chiama questo Pokémon Non mi ricordo assolutamente Come si chiama Aspetta tu ci porti poi Un Lucario Aspetta Luxio Ok perfetto Luxio Intanto possiamo rimettere via Anche il nostro altare Perché è stato un pochino utile Per sbagare il tutto Togliamo via questo piccino Un attimino E continuiamo a far livellare I nostri Pokémon Maggiormente Direi di far livellare Un attimino il Gardevoir Perché è quello Diciamo a livello Un pelo più basso Di tutti quanti Quindi mega evolviamolo Scrivetevi sotto In i commenti ragazzi Delle mosse Da far imparare La nostra Gardevoir Così magari diventa Un pelo più forte E un pelo più utile Alla nostra causa Soprattutto Dai facciamoli fuori Il Sheldun Poi cosa che ha Un Grimmer Però un Grimmer Sinceramente con le mie mosse Non so quanto gli possa Ah no Invece l'ha fatto un bel po' A parte che ha un 70 Contro un 40 Comunque Non è che ci cambi tantissimo Facciamo gli fare Tutta quanta la squadra Almeno livelliamo un pochino Il nostro Lissimo Gardevoir E sta diventando anche Notte What? Era giorno poco fa Che ansia Ok qua c'è un'altra In natura Lì vedo un po' di Lapras Che non è che siano Tanto tanto utili Alla nostra causa Lì vedo un po' Che Pokémon è quello lì? Vi giuro Non l'ho mai visto Il Taurus Sì ma questo no E cosa lì piove? E qua no Ok Tu sei un 47 Cosa sei? Un Licky Licky Ciao Licky Licky Ti voglio catturare Con una Duskball Sapete che Le Duskball sono Baggatissime Infatti Baggatissima Abbiamo preso subito Un Licky Licky così Al primo colpo Qua ci sono un sacco di NPC Comunque Però di un livello Molto molto basso Questa savanna Sembra davvero sconfinata E intanto qua troviamo Un po' Di questi bellissimi Pokémon Di Kangaskar E ho droppato giù Il mio martello Grazie Oddio mio Cos'è quel robo? Voglio sapere Che Pokémon sei Sei tenerissimo Però sei a un livello Molto basso Sei un Zebstrika Wow Bel nome Bomber Davvero Io comunque Non vedo forme di vita Non vedo case Non vedo niente E la cosa mi fa pensare Che qua non ci abiti nessuno In questa savanna Molto strana Ed estesa Perché comunque È davvero molto grande Per esempio Qua si stacca ancora E c'è un piccolo Frangente d'acqua Che ci porta In quest'altra isoletta Fatemi toglierla Pioggia rega Perché non la sopporto Qua si sale Qua si sale Qua si sale Non so dove si va Eppure rega Di Pokémon utili Non ne sto proprio trovando Mi sa che queste isole qua Dell'Arcipelagonara Non ci daranno tante soddisfazioni E credo che la Flower Forest Sia la mia orbioma Per quanto riguarda me E i miei tipi di Pokémon Che mi piacciono Da trovare Solo che non capisco Se ci sono altre forme Di vita qua dentro A parte questo bellissimo Nidorin dovrebbe essere Che è enorme Mio Dio ma quanto sei grosso È Nidorina è Prima di prenderlo Vediamo quanto poi ci dà Di grossezza No Ehi Incatturabile Non si può catturare Allora Facciamo un giro qua in alto Per vedere meglio Ok Qua vedo una casa infatti Con un sacco di Pokémon A giro Ok Qua c'è una casetta Credo non C'è Già buildata Zebstrika Al 32 Niente Non Come Fammi uscire Bomber Qua c'è una casa Oddio No ragazzi Sono un botto di materiali Vuol dire che è vissuta qualcuno Questo cos'è È un orb Così Qua troviamo un botto di altre chest Svamperite Galladite No ragazzi C'è quella di Garchomp Io la rubo Quasi quasi Altaria Ah Molto bene Ha trovato un mega altaria Questo qui quindi Diario di viaggio Quindi qua c'è un Oddio Ci sono un botto di materiali È vissutissima sta casa quindi Ok qua si si siede Via Bene Infatti rega Non abbiamo trovato Pokémon utili Però magari se aspettiamo Il proprietario di questa casa Potrebbe darci una mano Magari di trovare qualche Pokémon utile In quest'isola Quindi ci tocca magari Camperarcela Su quest'albero Da qualche parte Magari prendiamo questa Cobblestone Saliamo un attimino Un po' più in alto Togliamola per non farci sgamare Beh si Potremmo nasconderci In questa parte qua di albero Ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio Per aver visto tutto questo episodio E provato a catturare qualche Pokémon Nella savanna Però Non ce n'erano Non ne ho trovati decenti Cioè Sono tutti quanti A livello molto basso Quindi Fatemi sapere voi Magari c'è qualche Pokémon Forte in questo bioma Più Aiutatemi col Gardewar Qua sotto nei commenti Da Marchettutto Beh